Ci devo riflettere, Candy. Non ne sono ancora sicura. Cosa? Aspetta un attimo, ne avevamo parlato. Sì, lo so. E non era tutto deciso. Ora ho cambiato idea. A causa di Andy? No. Senti, non credo di essere pronta. Perché? Che faresti qui senza di me? C'è mio padre, lo sai. Ha bisogno di me. Non voglio restare qui per tutta la vita. Desidero andarmene. Però non ora, mi serve ancora un po' di tempo. Non ho ancora un po' di tempo. Senti, lo sai quello che la gente dice di mio padre? E lui mi risponde che la gente ha una grande paura delle cose che non capisce. E io non so che cosa significhi. Sappi che andrò a San Francisco. Con te o senza di te. Mi dispiace. Già. Non fare così. Sono talmente confusa. Io ho come l'impressione di appartenere a questo luogo. Gli uccelli. Che cos'hanno? Non ce ne sono. Splendido. Samantha. È solo mio padre. È solo mio padre. Mi hai atterrito. Cosa c'è, padre? Ti voglio bene, Kenny. Cosa? Cosa? No!